Ben tornati da Paolo Corazzondi, trebimeteo.com. Vediamo questo aggiornamento delle previsioni relative alla giornata di venerdì. Come si dice spesso, Italia divisa in due. Al nord Italia infatti farà sentire i suoi effetti la massa d'aria molto fredda preannunciata ormai da giorni. Invece nelle regioni centro-meridionali temperature decisamente più miti. Tra poco vedremo anche con che conseguenze sul tempo. Ma cominciamo proprio dalle temperature. Guardate, valori minimi della notte e del primo mattino decisamente bassi al nord, al di sotto dei 10 gradi e in montagna, qui siamo a 2000 metri, decisamente al di sotto dello zero. Invece temperature più accettabili al centro-sud. Net differenza anche sulle temperature massime con valori che addirittura in Sicilia toccano i 28 gradi. Invece al nord rimaniamo al di sotto dei venti. Vediamo ora più in dettaglio la previsione sul tempo con un graduale miglioramento in giornata al nord a partire dalle regioni di nord-ovest. Ancora un po' di nuvole e qualche piovasco insisteranno invece sulle Venezie con delle nevicate a inizio giornata sulle Alpi centro-meridionali fino a quote relativamente basse. Siamo intorno ai millimetri o anche leggermente al di sotto. Nell'Italia centrale nubie schiarite si alterneranno un po' per tutto il giorno però con la possibilità anche di qualche piovasco. Piogge però più di breve durate che interesseranno principalmente le zone interne. Situazione simile anche nelle regioni meridionali con una certa variabilità ma anche la presenza di ampie schiarite. Rimane però probabile qualche piovasco soprattutto nelle regioni peninsulari invece sulle isole a provvedere di pioggia sarà relativamente più bassa. Con questo è tutto a risentirci da 3bmete.com